Sarà il fascino delle colline Tennessee al tramonto, sarà la nostra cittadina, oppure la vita semplice di queste parti, sarà che non c'è un'unica ragione, fatto sta che dal 1866, qui a Learburg, Tennessee, prepariamo Jack Daniels, sempre lo stesso modo, basta un sorso e capirete perché lo faremo così, prendete Jack Daniels, Tennessee, qui. Lavatrice impazzita? Tente paura, c'è la iomoterapia, prendete uno iomo alla fagola e mettetevi al sicuro. Buono gli uomo, con quel sapore di frutta, solo frutta, mica aromi, vi sentirete molto meglio, eh, con gli uomo la vita vi sorride perché c'è la vita dentro, ancora problemi con la lavatrice, chiamate un tecnico. Ehi, i bastoncini del capitano! Ehi, i bastoncini del capitano! Dove stiamo? Tranquilli, seguite la stella! L'oro non è lontano! Andiamo! Ti amo! Avete trovato il mio oro! È tutto per voi! Merlutto di prima qualità nella mia speciale panatura! Ed ora tutti a casa! Bastoncini di merlutto Fendus, fantastici! Bella, viene voglia di guidarla. Catturala! Berlino a cinque porte, sette versioni, con motori a 12 e 16 valvole. Ah, te ne intendi, eh? E c'è anche lo stereo integrato nella plancia! Caspita, che bagagliaio! La mamma sarà contenta! Hanno fatto le cose in grande! Beh, è l'auto dell'anno! Fiat Bravo, Fiat Brava, la scelta! Nonna! E la merenda? Chiamiamo il signor Gianni! Pronto? Dica tutto! E i miei nipoti vogliono la merenda! Ma buona veramente! Sì, col cioccolato! Che bella fresca! Che nutriente, mi raccomando! E poi? E poi arrivo io! Con Kinder Pinguì! Kinder Pinguì, croccante cioccolato e latte fresco pastorizzato! Che gusto fresco! Si scioglie in bocca! Kinder Pinguì, nutri come una merenda, piace come un gelato! Buongiorno! Grazie! Buongiorno! 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 Camomilla sogni d'oro! Buonanotte! Ottimo giorno! Buongiorno! Michael, non puoi andare avanti!